Ok, quindi riprendiamo e invece parliamo di un problema correlato a quello precedente, sempre relativo ai cammini all'interno di un grafo, che però prevede di ricercare non un cammino qualsiasi, ma in realtà un ciclo. Anche qua, noi sappiamo già cos'è un ciclo, c'è un insieme di archi che formano un cammino in cui il primo nodo e l'ultimo di questo cammino siano lo stesso, è un coincidente, quindi di fatto un percorso fatto di molti archi, più archi e che poi arriva nello stesso punto di partenza. Ok, è un cammino chiuso, cammino di solito semplice, semplice nel senso che non ci sono mai, non passo mai due volte nello stesso vertice, quindi i vertici sono sempre tra di loro distinti, ma chiuso, quindi arrivo al punto, al stesso punto di partenza. Ecco, i cicli non sono cammini particolari, nulla di particolare, se non appunto che l'ultimo vertice coincide col primo. Esistono tipi particolari dei cicli, però che hanno delle proprietà di copertura dell'intero grafo, cioè ci sono dei cicli che toccano tutti i vertici del grafo, e in questo caso sono detti cicli hamiltoniani. Quindi un ciclo hamiltoniano è un ciclo in un grafo, quindi un cammino chiuso, che tocca tutti i vertici una volta sola, normalmente è un ciclo semplice, dicevamo, ogni vertice viene preso una volta sola. Questi sono degli esempi di cicli hamiltoniani su grafi completi, questi disegnini qua sono tutti grafi completi, no, scusate, non tutti, su vari tipi di grafi e sono evidenziati in rossi quelli che possono essere dei cicli che toccano tutti i vertici una volta sola. Chiaramente non toccano tutti gli archi, ma toccano tutti i vertici. Non è detto che un grafo possieda un ciclo hamiltoniano, non è detto che all'interno di un grafo possa esistere un ciclo hamiltoniano. Dipende da come è fatto il grafo. E l'operazione di scoprire il cammino hamiltoniano, che è appunto il cammino tra due vertici che visita ciascun vertice esattamente una volta, è un problema non banale da risolvere. Poi in realtà esiste la versione leggermente semplificata in cui non viene richiesto proprio un ciclo, ma basta un qualunque cammino hamiltoniano in cui parto da un punto e arrivo in un punto diverso. Tenete presente che questo problema è un problema molto importante nel campo della logistica, perché è il tipico problema del cosiddetto commesso viaggiatore. Cioè io devo riuscire con un mezzo a uscire dal mio magazzino, toccare i vari punti di consegna in giornata e poi ritornare al magazzino di partenza. Nel nostro caso della logistica chiaramente le strade ci sono e quindi sarà sicuramente sempre possibile farlo, ma poi c'è il problema aggiuntivo di farlo col costo minimo possibile. Quindi trovare qual è un cammino, se esiste, deve esistere, altrimenti rischiamo di fare consegne con la bicicletta in un posto in cui invece bisogna prendere l'aereo, quindi vuol dire che in quel caso non esiste. Ma in un sistema logistico completo, in cui ci siano tutte le tratte che sono necessarie, esistono sicuramente dei cicli hamiltoniani che mi permettono di toccare tutti i punti di consegna e tornare al punto di partenza. Poi devo trovare quello che ha il costo minimo, quindi trovare il percorso, questo costo potrebbe essere dato dal costo del carburante, dal tempo di consegna, da molti altri parametri. Quindi problemi di questo genere sono problemi di importanza molto forte, quotidiana, gestionale, logistica. Esiste il problema più semplificato in cui non sono obbligato necessariamente a tornare al punto di partenza. Quindi è solamente un cammino in cui parto da un punto, devo toccare una serie di punti e non mi importa, non è necessario ritornare al punto di partenza. Questo tipicamente è quando io ho qualche cosa a perdere, cioè devo fare una serie di consegne e poi dopo il mezzo non deve necessariamente rientrare. O perché magari non è un mezzo, è semplicemente una serie di operazioni da fare. Ecco, questo a volte rappresenta anche non necessariamente delle locazioni fisiche, ma delle operazioni da compiere. Allora, io devo compiere una serie di operazioni, hanno delle dipendenze nell'ordine in cui possono essere fatte, ma alla fine le devo fare tutte. E quindi trovare qual è l'ordine migliore in cui sequenzializzare, sapendo quali sono quelle compatibili, quali possono essere fatte una dopo l'altra. E questa è una serie di problemi, appunto, che va sotto il nome della ricerca dei cammini o dei cicli hamiltoniani, l'esistenza del ciclo hamiltoniano, oppure del ciclo hamiltoniano di lunghezza minima e così via. Poi esiste un'altra famiglia di cicli, che vediamo insieme, un po' per simmetria, dei cosiddetti cicli euleriani, da eulero, che è un po' più strana, diciamo, perché richiede di attraversare un grafo usando tutti gli archi. Quindi un cammino che usa ciascun arco del grafo esattamente una volta. Che, se ci ricordiamo, è esattamente il problema da cui è nata la teoria dei grafi, quello dei sette ponti della città di Königsberg, in cui i ponti erano gli archi e potevo modellare questa città come un grafo, i cui ponti erano gli archi, i vertici corrispondevano alle parti di terraferma, quindi le due isole oppure le due sponde del fiume, e quindi fare la classica passeggiata che attraversa tutti i ponti e che significava trovare un cammino ciclico, perché voglio tornare al punto di partenza, possibilmente, che attraversa tutti gli archi, eventualmente passando più volte sullo stesso vertice, non importa, l'importante è che siano gli archi diversi. Quindi coloriamo, testiamo tutti gli archi possibili e immaginabili. In questo caso un ciclo, un cammino, se non è chiuso, o un ciclo, se è chiuso, di tipo euleriano, è un cammino o un ciclo in cui vengono usati tutti i vertici, tutti gli archi del grafo esattamente una volta ciascuno. Mentre il problema del ciclo hamiltoniano è un problema aperto, nel senso che non c'è una soluzione semplice, il problema del ciclo euleriano è un problema risolto in modo banale. C'è un teoremino che ci dice che un grafo è un grafo euleriano, quindi ammette almeno un cammino euleriano, di tipo ciclico, di tipo chiuso, se e solo se, questi sono quei teoremi che nel mondo reale raramente ci capitano, se e solo se tutti i vertici hanno un grado pari. 2, 4, 6, 8, 374. Allora, se tutti i vertici hanno un grado pari, allora esiste un ciclo euleriano. Se almeno un vertice ha un grado dispari, non esiste un ciclo euleriano. Punto e basta. Quindi il grado dei vertici è una cosa banale, basta contare quanti archi ci sono, adiacenti a ciascun vertice. Se ho tutti i gradi pari, allora si può trovare il ciclo euleriano. esiste. Punto. Viceversa, se esistono dei vertici con grado dispari, è possibile in alcuni casi trovare magari un cammino, non un ciclo euleriano, se il numero di vertici che ha grado dispari è al massimo 2. E li mettiamo come primo e ultimo del cammino, perché quelli hanno grado dispari. E quindi su quei due lì non è necessario il vincolo di parità del numero di archi. È una cosa un po' strana, nel senso che due problemi che si somigliano molto, toccare tutti i vertici e toccare tutti gli archi, quello di toccare tutti gli archi, che in realtà sembra più strano, nella pratica è molto più semplice. Queste sono le formulazioni di base. Poi in realtà nei problemi reali non ce lo troveremo mai esattamente formulato così. di trovare un ciclo euleriano, trovare un ciclo miltoniano. Perché ci sarà sempre il problema pratico che dal punto di vista matematico il ciclo miltoniano esiste. Invece noi vogliamo trovare non solo se esiste, ma magari quello di lunghezza minima, di peso minimo. In questo caso si parla sempre di grafo pesato, perché se io parlo della lunghezza del numero di archi, questo è costante. Tutti i cicli miltoniani toccano esattamente n vertici, quindi hanno tutti lunghezza n. Tutti. Se invece il problema però è magari che non esiste. Il problema non è trovare... Ci sono casi diversi, ci sono dei casi in cui non è facile trovare un ciclo. Non so se esiste, e quindi il problema diventa trovarlo. Altri casi, tipo appunto le cartine geografiche, i problemi di logistica e di trasporti, dove ci sono tantissimi cicli miltoniani. Perché la rete dei trasporti è molto connessa. Però bisogna trovare quello di costo minimo. Quindi, anche lì, se io so già che nell'algoritmo è improbabile trovare un ciclo miltoniano e voglio scoprire se c'è, userò certi algoritmi che sono diversi da quelli in cui trovare un ciclo è facilissimo, ma poi devo minimizzare la sua lunghezza. Lunghezza sempre in termini di peso e non di numero di archi, perché il numero di archi in un ciclo miltoniano è costante. E la stessa cosa sul ciclo euleriano. È facilissimo trovare se esiste, però magari trovare quello di... perché basta verificare il grado dei vertici, quindi il primo problema è dire se esiste è banale, mentre invece trovare quello di peso minimo invece non è banale. Quindi dipende un po' ogni volta qual è effettivamente il problema che si incontra. Tenendo presente che spesso su problemi in cui si vanno a cercare i cicli tante volte si ha a che fare con i grafi completi in cui ci sono tutti gli archi possibili e immaginabili. E questo chiaramente aumentando la densità del grafo che complica parecchio il tempo di esecuzione dell'algoritmo. In questo grafo completo è facilissimo trovare dei cicli basta prendere i vertici in qualunque ordine però poi devo trovare quello migliore e allora devo enumerare tutti i possibili cicli che sono guarda caso n fattoriale perché dipendono dalle permutazioni dei vertici. Quindi ci sono varie varianti di questi problemi e di fatto ogni problema è un problema a sé. Per quanto riguarda gli algoritmi come dicevamo partiamo prima da quelli facili sui grafi euleriani non solo abbiamo il teorema facilissimo che ci dice se tutti i vertici hanno grado pari allora esiste un ciclo euleriano altrimenti non esiste ma abbiamo la stessa tecnica che si usa per dimostrare il teorema è anche una tecnica costruttiva che ci dice qual è il ciclo che ci insegna a costruirlo e come fa? L'algoritmo è molto semplice prendo un vertice di partenza qualsiasi non importa quale perché tanto comunque essendo un ciclo chiuso ritorno al punto di partenza e non non importa quale sia quel punto ok partendo da quel vertice v vai avanti a caso vai avanti a caso arbitrariamente proprio da v ok quanti archi ho? ho una certa serie di archi uscenti ne scelgo uno ok arrivo qui qui ho degli archi uscenti ne scelgo uno ok vado avanti eccetera eccetera ovviamente poiché sto cercando un ciclo euleriano non devo usare due volte lo stesso arco e va bene posso tornare allo stesso vertice quindi potrei aver fatto questa scelta poi questa scelta torna qui non è un problema nel caso del ciclo euleriano posso avere dei cicli non semplici anzi li dovrò avere perché se questo vertice ha 5 6 non si può 6 archi uscenti e dovrò entrerci uscirci tre volte ci entro esco entro esco ogni volta consumo due archi uno per entrare uno per uscire e quindi vado avanti così a caso cosa può capitare che poiché il numero poiché il numero di vertici è finito non è infinito non abbiamo dei grafi infiniti prima o poi tornerò al punto di partenza oppure arriverò in un vertice da cui non mi posso muovere allora il teorema ci dice che non può capitare mai di trovarti in un vertice da cui non puoi più uscire perché proprio perché il grado di ogni vertice è un numero pari e quindi se io ho un vertice ci sono entrato tra un arco ci esco da un altro arco poi ci entro una seconda volta ci esco un'altra volta se il numero di archi è pari non è mai possibile di entrarsi in un vertice e non avere più una strada libera per uscire perché in questo caso vorrebbe dire che il numero di archi di questo vertice sarebbe un numero dispari invece se è un numero pari io ci entro consumando un arco e vuol dire che ce n'è almeno uno ancora libero perché il totale degli archi deve essere pari per quel vertice ok quindi grazie all'ipotesi che tutti i vertici abbiano grado pari sono sicuro che io posso andare avanti a caso senza mai rimanere bloccato poi può capitare che ritorno al punto di partenza e ritorno al punto di partenza v come ho fatto in questo esempio allora ho fatto un cammino che è un cammino chiuso quindi è un ciclo ma non è detto che questo poiché sono andato a caso non è detto né che questo ciclo tocchi tutti i vertici in realtà non me ne frega niente se tocca tutti i vertici o no perché mentre ne sono gli archi e quindi ovviamente non è neanche detto che tocchi tutti gli archi che attraversi tutti gli archi quindi è un ciclo chiuso ma non è detto che sia completo allora l'algoritmo cosa fa? dato questo cammino dice va bene ma ci sono questo qua non è completo se non è completo vuol dire che ci sono ancora dei vertici che hanno degli archi non utilizzati allora prendiamo uno di questi vertici e ripetiamo la procedura troveremo un altro cammino e poi in qualche modo incolliamo insieme questi due cammini lo vediamo meglio su una figura perché è più chiaro che cosa succede allora io ho preso questo grafo e ho scelto arbitrariamente il vertice e come vertice di partenza allora questo è un grafo euleriano perché se andiamo a contare A a grado 2 B a grado 2 C a grado 4 D a grado 4 F a grado 2 E a grado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via H a grado 6 I e J hanno grado 2 tutti i vertici hanno grado 2 pari 2, 4, 6 e quindi questo è un grafo euleriano e quindi dobbiamo riuscire a trovare un percorso prendiamo un vertice di partenza qualsiasi ho preso E e facciamo un percorso a caso partendo da E quindi da E posso andare verso C verso D verso F verso G o verso J ho scelto di andare verso G va bene da G non rimango bloccato perché ovviamente G aveva due vertici due archi uno l'ho usato e l'altro mi rimane libero userò questo per uscire arrivo in H da H posso seguire verso D C F I o J boh scelgo di proseguire verso J sto andando a caso senza nessun criterio senza nessuna regola da J posso proseguire solamente verso E e mi ritrovo di nuovo su E cioè sul mio punto di partenza ok a questo punto ho una piccola parte di quello che diventerà il mio percorso euleriano per aggiungere devo ovviamente aggiungere dei pezzi per aggiungerli cosa faccio scelgo un qualunque vertice appartenente a questo cammino che abbia ancora degli comunque vertice che abbia ancora degli archi liberi quindi posso scegliere in questo caso E oppure H e ripeto la stessa procedura da quel punto e quindi H ad esempio faccio H da H potrei andare verso F o verso J o verso I o verso D ovviamente scelgo scelgo di andare verso D poi da D scelgo di andare verso C e poi casualmente da C scelgo di tornare ad H e quindi ho fatto quest'altro percorso che potrebbe essere questo H D C H al momento avrei due cicli questo è il primo e questo è il secondo io alla fine non voglio però tanti pezzi di ciclo voglio un ciclo unico però li posso infilare facilmente nel senso che poiché il secondo ciclo inizia ad H e finisce a H e H per scelta è un vertice che apparteneva al primo percorso posso semplicemente infilarlo qua e ottengo questo EG che è un pezzo del primo poi ho tutto questo sottocammino H di CH dove prima c'era solamente il vertice H e poi JE che è il resto del primo cammino quindi praticamente quello che sto costruendo è il cammino iniziale E GH poi anziché continuare subito su J parentesi vado su D C poi torno su H e a questo punto continuo il percorso JE per finire è un po' twisted un po' incrociato ma in realtà sono è come se io facessi questo ciclo qui lo taglio sul punto H e su questo ci innesto l'altro ciclo quando non si interse che non li vedrei così come una sorta di 8 e quindi il primo ciclo non lo completo perché quando arrivo a un certo punto faccio una deviazione che mi farà toccare una certa serie di altri archi e vertici e poi tornare al punto di partenza da cui poi posso continuare e capiamo che questo lo possiamo ripetere ogni volta perché anche questo a sua volta posso scegliere un qualunque arco no un qualunque vertice presente su questo cammino che abbia ancora degli archi liberi e innestarmi e fare anche qua un secondo ciclo che tornerà al punto di partenza eccetera eccetera fino a quando non esaurisco il tutto quindi da questo esempio qua posso scegliere ad esempio B D scusate di ripartire da D e posso trovare un altro cammino che parte da D possiamo disegnarlo D B C D B A C E D questo qui sotto partendo da D posso fare D essendo un vertice che appartiene alla parte di ciclo che ho già trovato e ha ancora archi liberi posso partire da qui e fare questo giro e otterrò quindi questa figura in cui poi questa qui a destra partiamo da qua in cui ho aggiunto anche questa parte D B A C E D che è qua in mezzo anche qua rimane ancora qualche cosa di libero allora attenzione A B C D sono già pieni nel senso che ho già detto tutti i vertici rimane ancora E H O F no E oppure H scusatemi perché F non appartiene ancora al cammino I non appartiene ancora al cammino quindi non lo posso scegliere scelgo O E o H diciamo scegliamo H e a questo punto l'unica cosa che posso fare è andare ad esempio verso F poi da F ho la scelta obbligata verso E da E ho la scelta obbligata verso I perché non posso riusare archi che ho già usato da E ho la scelta obbligata verso H e mi fermo e quindi inserirò questa parte qui al posto di H adesso possiamo inserirlo al posto di questa H oppure al posto di quest'altra è assolutamente indifferente qui nell'ultima figura che è quella a sinistra è stato inserito al posto della prima H vedete qua questa sottosequenza è al posto di questa prima H e alla fine abbiamo trovato questa serie di vertici in cui i vertici ovviamente compaiono più volte ma gli archi che li collegano compaiono tutti una volta sola li usiamo tutti li usiamo tutti una volta sola e torniamo come punto d'arrivo allo stesso punto di partenza l'unica ipotesi che abbiamo usato appunto che quando entro in un vertice posso sempre uscire e o scopro sempre vertici nuovi e allora vado avanti oppure torno al vertice di partenza e allora mi fermo e uso poi il meccanismo per ripartire scegliendo uno dei vertici rimanenti nel grafo alla fine di questo tutti i vertici verranno considerati a meno che non ci siano delle parti del grafo che non sono connesse allora ovviamente se non sono raggiungibili non li troverò mai ma è poiché io ogni volta parto da un vertice che c'è già nel mio nel mio nel mio ciclo diciamo così temporaneo sono sicuro che i due cicli si congiungeranno sempre cioè non prendo un vertice a caso e ricomincio da là prendo da un vertice di quelli che ho già e lo allargo quindi ogni volta si allarga sempre di più questa serie di cicli concatenati in questo modo quindi questo è un algoritmo molto semplice ovviamente già anche in libreria ce l'abbiamo già implementato e capiamo che ha una complessità che è proporzionale al numero di archi perché ogni arco viene preso una volta sola mentre sto navigando il mio grafo faccio operazioni banali del tipo semplicemente scelgo il prossimo onore adiacente mi basta prendere il primo non ho bisogno di fare nessuna scelta nessuna ottimizzazione nessun backtracking vado semplicemente avanti e quindi ad esempio l'implementazione di questo ciclo euleriano della libreria jgraph t ci dice che il tempo di esecuzione è scritto qua sotto è di tipo o grande di e dove è la cardinalità del numero di archi del grafo che è quello che ci aspettiamo quindi un algoritmo tranquillo di complessità lineare che ci permette di trovare quando ci servono questi tipi di cicli che purtroppo sono nella pratica meno frequenti meno utili rispetto ai cicli hamiltoniani perché problemi in cui sia necessario trovare tutti gli archi sono più rari essenzialmente nell'ambito pratico mentre invece se andiamo a cercare se andassimo a cercare gli algoritmi per risolvere i grafi hamiltoniani non avremo purtroppo buone prospettive buone risposte perché ad oggi non esiste nessuna soluzione efficiente quindi diciamo soluzione polinomiale o poco più che polinomiale nel caso generale dei grafi di un grafo pesato orientato o non orientato indifferente molto spesso i grafi per i cicli hamiltoniani sono grafi non orientati il problema non arriva dall'orientamento ma viene dal peso essenzialmente dal gestire i vari pesi quindi tutti i vari cammini possibili immaginabili ecco tra questi come vi accennavo già prima c'è il problema famoso del commesso viaggiatore ha anche una sigla si chiama TSP Travelling Session Problem che è proprio quello che ci dice date una nuvola di punti che sono le città che questo commesso viaggiatore deve toccare trovare il cammino di lunghezza minima che le tocchi tutte in questo caso in questa figura diciamo così unire i puntini diciamo c'è un possibile ciclo che sembra un ciclo di lunghezza minima sulla destra ti dico sembra perché non so se è stato risolto in modo esatto questo problema qua nella slide però non vediamo almeno a occhio evidentemente dei percorsi migliori rispetto a quello che è stato fatto in questo in questo esempio che c'è qui ci sono due ipotesi uno è che per andare da questo punto a quest'altro punto posso volare quindi la distanza che viene calcolata è la distanza in linea d'aria in un certo senso e quindi per questo ho accennato prima il fatto che in molti casi i grafi con cui abbiamo che fare sono grafi completi perché in teoria da questo vertice potrei andare qui potrei andare qui potrei andare qui potrei andare qui posso scegliere arbitrariamente quale sia la prossima città non ho un vincolo dopo questa città non posso scegliere la successiva ma solamente queste io so quali sono le città magari più vicine più connesse ma in teoria posso come prossima città scegliere una qualsiasi e in alcuni casi magari è più conveniente passare da una città che non è l'immediata vicinanza per poi tornare magari indietro piuttosto che non se voi avete un grafo fatto così supponiamo e poi una città qui quando siete qui vorreste dire ma io questa qui è più vicina ah poi questa è più vicina poi questa è più vicina col fatto che c'era questa qua sotto che vi siete dimenticati e se arrivate in fondo dovete tornare qua avete una lunga strada da fare quindi quando siete qui vi converrebbe non andare su quella più vicina ma su un'altra che è un pochino più lontana perché poi non devo più tornarci sopra quindi a priori io non so non posso escludere che dopo una città ce ne possa essere un'altra e scegliere quest'altra sia la soluzione migliore quindi a priori il mio grafo è potenzialmente un grafo completo e poi devo trovare ovviamente quali sono i percorsi migliori l'altra quindi la prima caratteristica dei problemi tipo TSP è che il grafo è completo perché non ho a priori delle coppie adiacenti di vertici da escludere quindi in teoria quando sono su vertice tutti gli altri sono buoni purché non li abbia ancora visitati la seconda caratteristica è che questo è un problema geometrico in cui il peso dell'arco corrisponde praticamente alla distanza tra le città poi la distanza non è detto che la misuriamo in chilometri ma la misuriamo magari in tempo magari la misuriamo in carburante eccetera se però questa è una metrica di distanza vale la proprietà triangolare in cui normalmente se io ho la somma di due segmenti la somma del segmento D1 più D2 sarà sempre maggiore o uguale della D3 se D3 invece è il segmento quindi la famosa di uguale triangolare che dice che il lato di un triangolo è sempre minore della somma degli altri due questo non è detto che avvenga se io metto dei pesi a caso sul mio grafo se però questi pesi derivano da una misura di distanza una misura di consumo di risorse tendenzialmente provenendo dal mondo fisico questi grafi sono grafi euclidei cioè rispettano la disuguaglianza triangolare e se io so a priori che il grafo ha questa proprietà può darsi che il mio algoritmo sia in grado di sfruttarla quindi qui non sto più visto che il problema appunto finora non abbiamo trovato una soluzione ottima un algoritmo che mi dia la soluzione ottima in tutti i casi e comincio ad andare a chiedermi ma ma guardi in questo caso specifico di questo grafo in cui ho questa proprietà aggiuntiva riesco a fare qualche cosa di meglio riesco a trovare un algoritmo che non per tutti i grafi ma per quella categoria invece lo lo può trovare e se noi andiamo a vedere sulla libreria JGraphT cerchiamo ciclo Hamiltoniano noi troviamo stranamente non una classe o una serie di classi ma un'interfaccia perché gli stessi sviluppatori della libreria ci dicono guarda questo è un problema noto sappiamo che il problema deve avere di fatto come parametro un grafo e poi un metodo che si chiama getTour cioè calcola il tour in questo caso parla di grafi se non sbaglio non pesati quindi li trova solamente se esiste a trovare se c'è un ciclo Hamiltoniano quindi non si preoccupa ancora in generale del del pesi e poi ci sono delle classi che lo implementano che implementano questa interfaccia lo implementano in modo diverso ciascuna di queste sottoclassi qui ce ne ho riportate alcune usa delle euristiche diverse delle approssimazioni diverse e ciascuna mi darà una soluzione potrà darmi una soluzione che è una soluzione al meglio approssimata ad esempio qui commentiamo alcune di queste implementazioni ce ne sono alcune che mi danno una soluzione approssimata con un fattore di approssimazione massimo pari a 2 cioè se la distanza minima è se la lunghezza di questo cammino minimo fosse 120 lui mi garantisce di dare una soluzione che è minore o uguale al doppio della lunghezza minima è accettabile no dipende non lo so mi dà comunque una soluzione e io so che la soluzione vera magari è la metà di quella che mi dà lui ragionando il contrario oppure magari è arrivato più vicino nel caso peggiore è la metà oppure c'è quest'altro dei tre mezzi cioè quindi 1,5 cioè lui peggiora mi dà una soluzione che è peggiorativa al massimo di un 50% in più e ovviamente questo secondo dovrà fare del lavoro in più quindi sarà un pochino meno efficiente e poi ci sono invece altri algoritmi di tipo puramente euristico questo si chiama 2opt lui fa un ciclo qualunque e poi prova tra di loro scambiare città vicine città di accenti e fino a quando riesce a migliorare cioè un po' l'idea di rilassamento vado a prendere un arco vedo se l'arco vicino è migliore di lui e lo lo sostituisco solo che nel caso di cammini minimi il rilassamento c'è tutta una base teorica di teoremi che mi dice che alla fine converge e mi dà la soluzione minima invece qui non è detto però è un'euristica quindi un algoritmo diciamo così che prova a implementare un'idea di buon senso e cerca di migliorare la soluzione poi a un certo punto quando non riesce più a trovare scambi efficaci cioè che riducano la lunghezza del cammino si ferma e mi dà un certo cammino senza nessuna garanzia a priori su quale sia il margine di errore oppure ci sono gli algoritmi che mi danno una soluzione esatta completa ma solamente con condizioni extra cioè se il grafo soddisfa delle condizioni aggiuntive sui pesi sugli archi sui gradi questo chiaramente dipende dai dai problemi oppure ci sono delle classi che invece implementano la soluzione completa ma ovviamente se la soluzione è completa deve essere avrà una complessità che è o esponenziale o fattoriale a seconda di come viene implementato poi internamente quindi abbiamo un ventaglio di scelte se il grafo è piccolo va benissimo una soluzione completa chi se frega se il grafo invece è più grande devo accettarmi di una soluzione non esatta una soluzione approssimata oppure se conosco delle qualità particolari in più per il mio grafo magari riesco a sfruttarle ad esempio ci sono tutti degli studi sul problema cosiddetto del TSP metrico cioè dove effettivamente il grafo sia metrico cioè abbia le distanze e quindi le distanze diciamo così rispettano le leggi della geometria non solamente la disuguaglianza triangolare ma anche la somma delle distanze eccetera eccetera allora si riesce a trovare implementare questo famoso to approximate cioè un ciclo che sia al massimo lungo il doppio del ciclo veramente minimo e questo però me lo fa con una complessità diciamo così minore adesso voglio solo vedere se collegandoci online a questa pagina eccola qua ok ci da tutti questi metodi devono essenzialmente implementare questo get tour però ce lo risolvono in modo diverso ad esempio questa che abbiamo detto to approximate metrics tsp ci dice bisogna andare a vedere la definizione for the metric tsp quindi il problema è solamente su un grafo che deve essere geometrico i pesi devono essere geometrico è un'approssimazione assumendo che questa istanza del grafo soddisfi la disuguaglianza triangolare qua c'è scritto se lo soddisfa allora abbiamo una complessità che è v al quadrato log di v quindi molto bassa tutto sommato ok è un po' più di v al quadrato mentre invece se andassi a prendere un argonimo più preciso come quello dei tre mezzi scusate 1,5 mi dà una complessità allora bisogna capire nel tsp metrico la distanza tra città soddisfano la disuguaglianza triangolare quindi anche qui faccio l'ipotesi di metricità del grafo di geometricità del grafo lui però questo algoritmo qua richiede che il grafo sia non orientato e completo quindi che ci siano tutte quindi va bene probabilmente l'ipotesi di completezza è valida però è una condizione per far girare questo algoritmo mentre nell'altro algoritmo non era non era richiesto che il grafo fosse completo allora ho fatto dell'ipotesi in più ottengo un risultato che è una processazione migliore perché può sbagliare del 50% e non del 100% e una complessità che in questo caso è v al cubo per e sempre polinomiale ma su un grafo completo ricordiamoci che e è esattamente v al quadrato e visto che questo grafo deve essere completo qui stiamo parlando di via la quinta che è sempre meglio della della complessità esponenziale però comincia a essere un valore maggiore mentre invece quando parlavamo ad esempio del dove era? tu opt l'euristica di scambio ci dice guarda io faccio una serie di scambi possibili e vedo se riesco a minimizzare la lunghezza del ciclo scambiando tra di loro coppie di vertici consecutivi parto da un valore iniziale che è un ciclo casuale questo sto guardando ma dovrebbe essere applicabile solamente a grafi completi perché inizialmente parte da un ciclo casuale trovare un ciclo casuale è facile da trovare se il grafo è completo altrimenti non lo vedo scritto in questo caso non c'è scritto ma in realtà è implicito poi vabbè ci sono altri anche lui a sua volta ciascuno di questi algoritmi ha delle casistiche particolari quello che dicevamo che era un grafo esatto un algoritmo esatto questo qua Palmer Emissional Cycle mi dice calcola i grafi Hamiltoniani cicli Hamiltoniani in grafi che soddisfano questa condizione di Or adesso non ho idea di che cosa sia questa condizione di Or ha dato una sua condizione sufficiente affinché il grafo sia Hamiltoniano dicendo che devono avere almeno un certo numero di cicli è una teorema particolare in cui bisogna fare la somma dei gradi delle coppie di vertici non adiacenti insomma se soddisfano una certa disuguaglianza può darsi di sì può darsi di no allora posso usare questo algoritmo e se lo uso mi trova un ciclo Hamiltoniano esatto in un tempo via il cubo però su un grafo se ho capito bene non pesato this algorithm does only attempt to find any Hamiltonian cycle cioè cerca solo di trovare un ciclo Hamiltoniano e però non cerca di trovare quello più breve quindi in questo caso si applica quando il grafo ha queste proprietà e noi non siamo sicuri se un ciclo esista e quindi andiamo a cercare se c'è uno se ce n'è uno lui questo algoritmo me lo trova ma non è detto che mi trovi quello più breve quindi non abbiamo una soluzione non avere la soluzione completa vuol dire che questo nessuno è mai riuscito a trovare e probabilmente teoricamente non esiste proprio una soluzione polinomiale esatta al problema nel caso generale e allora abbiamo tante soluzioni particolari specifiche e dobbiamo capire in quale di queste di queste casistiche non si trova il nostro il nostro problema se diciamo il nostro problema si può ricondurre a una di queste casistiche oppure andiamo verso il problema completo come ha citato nelle slide l'algoritmo di Alcarp che mi dice subito che la complessità è 2 elevato v per v al quadrato quindi e ha una necessità di memoria aggiuntiva anche di 2 elevato v quindi capite che quando v cresce questo algoritmo qua non lo applicheremo di sicuro non è solamente per il tempo ma anche per la memoria che ha bisogno di allocare e quindi magari può essere utile se il grafo è piccolo e se non ho informazioni aggiuntive quello che capita è che molto spesso ci dobbiamo accontentare mi spiace chiudere il corso con questa constatazione triste ma dopo aver tanto studiato provato algoritmi ci dobbiamo accontentare di rinunciare fermarci a un certo punto dicendo guarda questo problema qui o lo sappiamo risolvere in modo approssimato o lo sappiamo risolvere solo se in casi particolari ben precisi oppure in teoria sulla carta sarebbe risolubile ma richiederebbe un tempo di elaborazione che è comunque non accettabile e ci si ferma qua o meglio in realtà non ci si ferma qua ma esistono tutta una serie di algoritmi approssimati che noi studiamo in questo corso che sono tecniche di soluzione approssimata appunto che cercano comunque di dare una soluzione che sappiamo già non sarà esatta ma entro certi tempi di elaborazione chiediamo io ho 24 ore di tempo di CPU cerchiamo un algoritmo che in queste 24 ore cerchi di fare il suo meglio per avvicinarsi avvicinarsi il più possibile a un ottimo che non potremo mai conoscere quindi questa diciamo così gli algoritmi che abbiamo studiato in questo corso sono sempre partiti dall'idea di avere un problema e volerlo risolvere avendo definito qual è la soluzione nel mondo reale molte volte invece ci si accontenta ci si deve accontentarli meno perché purtroppo la teoria ci dice che al di sotto di una certa complessità non si riesce tra l'altro io qui non vi ho detto che questo problema non si può risolvere in modo polinomiale ho detto che nessuno è mai riuscito a trovare una soluzione polinomiale al caso generale e questo è uno dei problemi aperti dell'informatica cioè il problema commesso viaggiatore quindi trovare un ciclo Hamiltoniano è ancora un problema di cui se voi scoprite se voi riusciste a dimostrare che non esiste nessun algoritmo polinomiale che sia in grado di risolvere questo problema sicuro avete il premio Nobel il giorno dopo perché sono da 50 anni che nessuno è mai riuscito a dimostrare se esistono dei problemi se esistono veramente dei problemi che non ammettono mai nessuna soluzione polinomiale noi tutti sospettiamo di sì nel senso che ci sono quei problemi sono da 50 anni ci stiamo lavorando nessuno è mai riuscito a trovare una soluzione più efficiente e quindi sospettiamo che non esista però matematicamente nessuno è mai riuscito a dimostrarlo quindi c'è sempre il dubbio che un giorno uno arrivi dice stravolge l'intera informatica dicendo guardate che quel problema là che voi pensavate irrisolubile con complessità esagerata in realtà si risolve così può succedere perché nessuno ha ancora dimostrato il contrario però c'è una categoria di problemi che sono quelli che sono i detti np hard np sta per non polinomiale che non sono risolubili in modo non polinomiale tra l'altro è carino perché invece quello che sono riuscito a trovare i teorici gli informatici teorici è che se tu ne risolvi uno di questi se tu riesci a prendere uno di questi problemi classici tra cui il tsp è uno di questi l'altro è il timetabling quindi fargli orari essenzialmente orari e calendari è un altro problema di questo genere se ne risolvi uno riesci a trovare la soluzione polinomiale per uno di questi allora a cascata riesci anche a risolvere tutti gli altri perché sono riconducibili tutti l'uno all'altro con certi meccanismi Mario mi chiede a riguardo gli algoritmi che abbiamo visto è importante scegliere uno piuttosto che un altro in un certo problema allora no se non stiamo andando se non siamo troppo preoccupati delle prestazioni ottime in un problema piuttosto che in un altro per quanto riguarda i cicli hamiltoniani posso già dirvi che se dovesse capitare un calcolo di questo genere in un esame quello che vi chiediamo è di fare una procedura ricorsiva quindi provare voi a costruire il ciclo richiesto diciamo così direttamente ricorsivamente quindi non serve conoscere questi algoritmi perché di fatto come vedete hanno delle ipotesi di base che sono da studiare tutte una per una ve lo cito perché magari vi può servire se avreste da risolvere il problema nel mondo reale sappiate che c'è chi ha già fatto degli studi degli investimenti quindi ci sono già delle soluzioni pronte però bisogna capire se si applicano se si fanno bene o no se dovesse capitare un problema di un ciclo all'esame quello che vi chiediamo è di fare una procedura ricorsiva per conto vostro se invece parliamo di cammini minimi allora tutti quegli algoritmi che abbiamo visto prima sono tutti validi hanno tutti una complessità praticamente paragonabile sul via alla seconda oppure numero di archi oppure V per logaritmo di V ma sono spesso usiamo quello di Dijkstra perché è quello sulla singola sorgente è quello più veloce più efficiente ma alla fine sono abbastanza tutti intercambiali tra di loro si si è abbastanza indifferente usarne uno piuttosto che un altro sono comunque polinomiale quindi se ne usi uno all pairs anziché un single source e quindi passi dal quadrato via al cubo per il tipo di grafico che abbiamo noi probabilmente non ci cambia la differenza è chiaro va usato in modo corretto nel senso che non devo ricalcolare troppe volte le cose che ho già ma non stiamo a analizzare troppo la scelta dell'algoritmo sapendo che comunque è in quella categoria sarebbe sbagliato invece su un problema di cammini minimi impostare una procedura ricorsiva questo sì perché sta andando su una classe di complessità diversa quando in realtà sai che esistono dei problemi di complessità polinomiale questo sì è un minimo orientarsi su qual è almeno la classe di problema sapendo che forse modo sono queste tipologie di problemi che possono capitare ok noi abbiamo ancora decine di minuti e se volete io ragionerei con voi un attimo sul problema del dei cammini minimi sul grafo del metro di Parigi ok oggi abbiamo parlato tanto di cammini cammini aperti cammini chiuri cammini minimi cicli eccetera noi avevamo visto la volta scorsa i problemi della metropolitana di Parigi in cui avevamo una prima implementazione che avevamo qua in questo test model che trovava un cammino e questo cammino era minimo dove con minimo intendevamo il numero minimo di archi il numero minimo di di tratte da percorrere il numero minimo di archi della lunghezza in termini del numero di archi o di vertici attraversati tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo questo l'abbiamo fatto semplicemente usando ricordiamocelo usando una visita in ampiezza abbiamo fatto una visita in ampiezza e abbiamo usato vabbè attraverso la lista eccetera eccetera ma poi abbiamo scoperto che non serviva perché bastava prendere il get dove era il get father get parent eccolo qua rispetto a ciascun vertice e quindi ricostruivamo semplicemente quindi abbiamo fatto un esercizio abbastanza ampio però il punto di arrivo del codice erano queste quattro righe in cui se mi serve un cammino minimo dove gli archi non sono pesati quindi hanno tutti lo stesso peso basta e la cosa più semplice facciamo una visita in ampiezza e andiamo a interrogare l'iteratore per andare a prendere il parent quindi tutto il meccanismo del traversal listener di fatto non ci serve se non per altri casi particolari che però non siano semplicemente il calcolo del cammino minimo per il grafo non pesato se invece un grafo fosse pesato allora potremmo usare ad esempio l'algoritmo di D'Axtra con un certo vertice di partenza e un vertice di arrivo ecco non lo implementiamo subito o non lo implementiamo in questi dieci minuti che ci rimangono perché in realtà il grafo che abbiamo creato qua era un grafo non pesato perché semplicemente abbiamo aggiunto un arco dove era abbiamo aggiunto degli archi semplicemente per le fermate collegate tra di loro c'era questo get all connessioni che corrispondeva niente di meno che alla tabella connessioni del nostro database allora se dovessimo invece pensare a un grafo orientato cosa dovremmo fare ok quindi questo ragionamento lo facciamo insieme proviamo a immaginare un calcolo della distanza minima tra due stazioni della metropolitana di Parigi tenendo conto ad esempio del tempo di percorrenza e non del numero di tratte tempo di percorrenza perché alcune stazioni tra di loro saranno più vicine altre saranno più lontane quindi il tempo di percorrenza è più lungo ma alcune linee e ce le abbiamo nella tabella linea vanno a velocità diverse cioè la maggior parte delle linee vanno a velocità di 55 km orari ma alcune vanno più piano queste vanno a 35 questa va a 40 questa addirittura va a passo d'uomo a 18 questa speriamo di non prenderla perché va a 3 km all'ora e cose di questo genere quindi ogni linea ha una velocità particolare una velocità media di percorrenza e le fermate sono a distanze diverse allora di ogni fermata noi abbiamo le coordinate x e y del luogo in cui si trova quella fermata non abbiamo l'effettiva lunghezza del percorso che può anche fare delle curve ma perlomeno abbiamo la distanza diciamo così in linea d'aria tra le varie fermate speriamo che i progettisti della metropolitana non abbiano fatto troppi giri inutili ok allora cosa potremmo fare per trasformare questo problema in un problema di prendere una pagina bianca in un problema su un grafo pesato io so che ho le varie linee le varie connessioni ok quindi una stazione qui un'altra stazione qui ho una linea che li collega in realtà queste due stazioni possono essere abbiamo visto anche collegate alle linee diverse quindi la linea blu la linea verde la linea rossa e così via consideriamone una noi quello che potremmo fare è calcolare il tempo medio di percorrenza dare al peso dell'arco il tempo medio di percorrenza di quella tratta e come lo calcolo il tempo medio beh il tempo medio potrebbe essere spazio fratto velocità quindi il tempo medio lo possiamo calcolare come lo spazio quindi distanza tra la fermata 1 e la fermata 2 f1 f2 fratto la velocità media della linea velocità linea ok allora la velocità della linea della linea la conosco partiamo dalla connessione la connessione mi dice che io ho un arco tra la fermata 358 e quella 124 questa fermata questa connessione usa la linea 1027 quindi io posso ricavare conoscendo la linea 1027 da qualche parte che questa linea ha una velocità media di 55 km all'ora poi conoscendo le due fermate che sono 358 e 124 vado a vedere alla fermata 358 358 che ce l'ho qua nel Ville Université le sue coordinate GPS latitudine e longitudine anzi longitudine e latitudine sono in questo ordine posso prendere le coordinate dell'altra stazione che era 124 e grazie a queste coordinate posso calcolare la distanza adesso nel progetto quindi nel progetto noi avevamo nell'oggetto fermata memorizzato le coordinate in un oggetto di tipo lat LNG cos'era questo oggetto lat LNG semplicemente una classe che implementa dei calcoli basati sulle coordinate in una libreria che si chiama simple lat long simple lat LNG se andiamo a cercarci questa libreria questa offre alcuni metodi c'era già l'indicazione in uno in uno in uno dei laboratori in cui è già stato usato questo questa libreria fornisce degli oggetti semplici per fare calcoli tipo geometrici dove è la documentazione aspetta che non la trovo più release allora cerchiamo scusate mi ha dimenticato di cercare prima il link diretto ok ad esempio questo è uno dei siti in cui ci trova il javadoc di questa di questa libreria e dati due oggetti di tipo lat long c'è un metodo distance un metodo statico della classe lat long che dati due punti e una lunghezza di unità un'unità di lunghezza che è un'enumerazione in cui posso dire la voglio in chilometri la voglio in metri la voglio in varie unità di lunghezza mi dà essenzialmente il valore double della distanza stessa quindi di fatto fa il calcolo però tenendo conto della terra come se fosse una sfera e quindi sa che le altitudini sono in realtà coordinate polari su una sfera del raggio pari al raggio della terra e non rischiamo di sbagliare ipotizzando che la terra sia piatta e quindi non usiamo il teorema di Pitagora per calcolare la distanza questa length unit è in numerazione che può essere chilometri metri oppure miglia nautiche o miglia terrestri ma preferiamo non usare le miglia chiaramente essendo per fortuna in una parte del mondo che usa sistema internazionale o nodi addirittura ok quindi è possibile calcolare la distanza conoscendo le coordinate noi vi abbiamo inserito nel maven del progetto questa libreria che è molto molto semplice è molto semplice perché appunto ipotizza che la terra sia sferica cioè usa una politizzazione sferica della terra la terra non è assolutamente una sfera ha una forma molto più appiattita e irregolare e quindi se uno dovesse fare dei calcoli veri non usa questa libreria semplice dice che però di solito l'errore dovrebbe essere solamente intorno allo 0,3% però se hai bisogno di una precisione migliore ovviamente devi usare un'altra libreria per quello che serve a noi è sufficiente l'abbiamo usato per misurare la distanza degli aeroporti non il laboratorio dove la distanza era magari anche di migliaia di chilometri diciamo così c'è stata sufficiente come tipo di approssimazione però anche sul picco sulla metropolitana di Parigi qui chiaro che le differenze sono minime perché 48,8 con quella differenza di latitudine e longitudine sulla seconda cifra decimale essenzialmente fra le varie stazioni però tutto sommato se andate a misurarlo in metri o in chilometri in questo caso meglio in chilometri perché abbiamo la velocità in chilometri all'ora possiamo prendere quindi le coordinate di F1 le coordinate di F2 usare il metodo distanza della libreria e riusciamo a calcolare per ogni arco un tempo medio quello lì lo usiamo come peso dell'arco e poi usiamo l'algoritmo di Dijkstra che ci dà dato la stazione di partenza e la stazione di arrivo quindi per fare questa operazione in realtà ci metteremo un'ora semplicemente a costruire il grafo pesato perché dobbiamo estrarre queste cose e poi 5 minuti per applicare l'algoritmo di Dijkstra magari un'ora magari mezz'ora e questa sarebbe una prima approssimazione possiamo farlo nel senso che ve lo consiglio di fare come esercizio poi magari vi pubblico una mia soluzione in un branch così la possiamo confrontare abbiamo almeno un esempio pratico di utilizzo del metodo di Dijkstra per il calcolo dei cambi di minimi devo farlo in un branch separato perché proprio il grafo è diverso non sarà più un simple graph ma sarà sarà un grafo pesato un weighted graph e quindi non posso farla come estensione di quella attuale dobbiamo fare proprio una cosa parallela diversa e poi quindi l'algoritmo lavorerà e quindi avrà F1 F2 poi avrà un'altra stazione qua che sarà F3 e troverà i cammini minimi il problema qual è? noi sappiamo che questo non è un grafo è un multigrafo e per ogni coppia di stazioni ci sono più linee che le collegano allora queste linee hanno ciascune una velocità diversa possono avere una velocità diversa allora il problema reale non è uguale al problema teorico nel problema teorico io potrei scoprire che posso andare che il cammino minimo è quello di andare da F1 a F2 con la linea rossa e poi da F2 a F3 con la linea blu e quindi l'algoritmo cosa fa? fa la somma del tempo di percorrenza medio sulla linea rossa da F1 a F2 più la somma del tempo di percorrenza medio tra F2 e F3 e la fermata 3 questo ci dà il tempo di percorrenza? no no perché dimentica il fatto che qua dovrei cambiare linea io posso avere tutti gli archi che voglio magari questo ha un peso minore perché la velocità della linea rossa la distanza è chiaramente la stessa tra F1 e F2 ma la velocità della linea rossa magari è maggiore della linea blu e della linea verde e quindi lui mi dice guarda in quel trattolo lì prendi la linea rossa sicuramente più veloce poi dopo la linea rossa non c'è più e quindi scegli tra la verde e la blu e mi dà la somma dei tempi netti di percorrenza e mi dà il percorso che minimizza la somma dei tempi netti di percorrenza senza pensare che in realtà qui devo cambiare e cambiare significa perdere tempo se la mia metrica è il tempo come stiamo cercando di fare qui sto perdendo tempo se io sono sulla stessa linea il tempo di attesa in stazione è zero se io non sono sulla stessa linea in realtà quando scendo in una stazione devo attendere un certo tempo prima che passi la prima vettura dell'altra linea che devo prendere adesso possiamo trascurare il tempo necessario per spostarsi da una linea all'altra anche se voi sapete che in queste grandi metropolitane come quelle di Parigi magari cammini anche dieci minuti ecco per fare una coincidenza allora questo tempo qui non viene considerato l'algoritmo l'algoritmo somma i pesi degli archi punto e basta ok e quindi io dovrei in qualche modo avrei una soluzione che diciamo così che non mi rappresenta il vero percorso migliore dovrei avere dovrei modificare il mio problema in qualche modo facendo capire che cambiare linea ha un costo cambiare linea mi costa in termini di tempo come potrei farlo ok l'algoritmo non lo capisce però se io lo vogessi fare dovrei in qualche modo dire al mio algoritmo guarda la mia stazione F1 è come se avessi una stazione F1 per la linea blu poi in F1 passa anche la linea rossa quindi ho un F1 rossa che va anche in F2 chiaramente F1 arriva in F2 e poi in F3 arriva la linea blu e poi ci sono anche linee verdi ok allora va bene io ho l'F3 verde ho l'F1 perdono l'F2 verde e l'F3 verde allora io voglio andare da F1 a F3 a trovare il percorso minimo allora per farlo aggiungo dei vertici allora già la stazione F1 non l'ho rappresentata come un unico vertice ma l'ho rappresentata come tre vertici idem l'F2 e l'F3 con due vertici perché uno per ogni linea da cui passa poi dirò va bene la stazione F1 ipoteticamente la rappresento tramite un altro vertice astratto che ha con peso zero è collegato a questi tre e l'F3 che è il mio punto di arrivo è qualche cosa che si può raggiungere con peso zero da questi due F3 e poi devo quindi vuol dire che il mio cammino minimo cercherà il cammino che ha da F1 diciamo così astratto nero all'F3 nero punto di arrivo la sorgente sarà qui e il punto di arrivo sarà qui del mio cammino minimi e mi cerca il cammino minimo usando questo grafo che non è il grafo reale delle stazioni è un grafo arricchito in cui ho dovuto per modellare un effetto in più ho dovuto aggiungere degli archi e aggiungere dei vertici questo primo vertice sceglie quale linea prendere e poi ovviamente questo mi fa arrivare al punto di arrivo questa scelta della linea in realtà in questo caso può avere un peso zero e poi sulla stazione intermedia cosa si può fare io nella stazione intermedia posso continuare come mi dica questo grafo oppure posso cambiare linea dalla linea 2 posso andare dalla linea blu posso andare la rossa dalla rossa posso andare dalla blu posso cambiare tra la blu e la rossa e la verde o tra la blu e la verde quindi ad ogni stazione posso modellare tutti i possibili cambi di linea che avvengono in questa stazione e questi archi non sono archi a peso zero ma sono archi a cui potrai dare un peso ad esempio dato dal e ce l'abbiamo qua nella tabella linea dato dall'intervallo di passaggio tra le vetture quindi ci sono degli intervalli perdono scusate ho sbagliato l'ordinamento ci sono delle linee che passano intervalli di 5 minuti linee che passano intervalli di 15 minuti e così via e quindi magari dirò che questa per passare alla linea blu passano i 5 minuti e quindi tutte le frecce che vanno verso la linea blu avranno un peso 5 le frecce che vanno verso la linea verde quindi 5 questa 5 questa le frecce che vanno verso la linea verde magari hanno un peso 15 e così via e quindi modello un grafo che ha un livello di dettaglio in più dove la stazione non è più una cosa atomica monolitica ma è a sua volta divisa in varie sottoparti in cui se il viaggiatore rimane sulla stessa linea continuare non gli costa nulla se il viaggiatore decide di cambiare linea allora cambiare gli costa un tempo che ha dato ad esempio il tempo di attesa tra una vettura e l'altra oppure se vogliamo fare un tempo medio potremmo prendere la metà qui stiamo ovviamente approssimando creando un modello questo per dire che molto spesso il problema di rappresentare sotto forma di grafo o di altre strutture dati un problema reale non è mai così diretto come quello che facciamo negli esercizi in cui c'è una cosa è semplicemente di crearci il grafo sopra a volte il grafo o la struttura dati in generale richiede di essere a sua volta decomposta in qualche modo spezzata per rappresentare degli altri fenomeni diciamo così di secondo ordine e quando è possibile lo facciamo magari manipolando il grafo stesso aggiungendo archi questi che ho disegnato o vertici questi che ho disegnato in nero che nella realtà non esistono decidendo che la stazione non è un unico vertice ma sono tanti vertici diversi ciascuno relativo a una linea che passa da quella stazione e quindi riuscendo a modellare dei fenomeni aggiuntivi e perché perché così posso sfruttare di nuovo l'algoritmo di Dijkstra e calcolare i cammini minimi su un grafo che è più complicato e quindi sarà l'algoritmo stesso che decide se mi conviene cambiare stazione perché passo su una linea più veloce oppure non mi conviene cambiare stazione perché il tempo di cambio è maggiore rispetto alla differenza di tempo di percorrenza tra la linea più veloce e la linea più lenta quindi uso l'algoritmo per comunque calcolare il risultato migliore tenendo conto nella modellazione del grafo anche di effetti aggiuntivi che non siano solamente il tempo netto di percorrenza quindi non devo buttare via tutto ma devo adattare la modellazione al tipo di problema che ho questo ve l'ho fatto così come flash come esempio chiaramente se qualcuno vuole può provare anche a implementarlo in questo secondo livello ma chiaramente il primo esercizio che dobbiamo fare è semplicemente calcolare e ragionare sul tempo netto così ci familiarizziamo col metodo dei cammini minimi i metodi Alessandro mi sta chiedendo riguardo al metodo getParent attenzione che il metodo getParent funziona solamente in un grafo non pesato ok in cui gli archi abbiamo tutti la stessa lunghezza quindi in questo caso questo ragionamento qua non possiamo applicare quel metodo il metodo trova cammino colui che per sostituisce il metodo sì esatto la soluzione quella che avevamo visto prima però appunto lo ribadisco ancora una volta vale solo per i grafi non pesati se voi guardate l'unico metodo che ci serve è questo qua questo metodo qua trova cammino 2 che usava getParent e poi nel suo chiamante essenzialmente se non sbaglio ribaltava l'ordine della lista essenzialmente ok io non vi voglio trattenere oltre come al solito su questo appunto magari ci scambiamo le soluzioni del metro Paris con le distanze con i tempi di percorrenza lunedì secondo me abbiamo un po' di tempo anche per vedere questa soluzione e invece ci vediamo mercoledì alla simulazione d'esame non usiamo il link solito per i laboratori perché vi daremo tre link diversi per i vari tre gruppi ok ma domani vi lo comunichiamo adesso vi lascio e ci vediamo mercoledì prossimo per la simulazione grazie a tutti